Ok, ci siamo, via, ciak, si gira! Perfetto, si dia il video alla sfilata! Ed ora vi presento i nostri compagni, con la prima sfilata in costume. Eccoli per la sfilata in costume. Mariana Cristanine e Giulio! Bravi, bellissimi, complimenti! Avanti i prossimi, i fratellini d'Italia, Daniele e Valeria! Bravi! È il momento di Gianluca Morde e Francesca Esposito! Oh, che uomo e che donna, complimenti! È il momento del Peppino Pio! Peppiolente ha clomato dalla molla e Sara Salvino! Complimenti, bellissimi! Andiamo avanti! Arrivano Spindino e Franceschina! Wow! Abbraccio del pubblico! Franceschina e Alicella! Grazie a tutti, con un mossa finale! Ed eccovi, due attori! Niccolò e il nostro U-Gren Gianluca! Wow! Meraviglioso con questi acchiali! La coppia del secolo! Katia e Gianmarco! Wow! Meravigliosi! E' il momento adesso della nostra bella Giussi con il bimbo Andrea Cavaliere! Il nostro Alpacino! E' il bellissimo Andrea, bella Giussi! Adesso è il momento di due aumenti! Il grande Antonio Rosseghi e Alessio! Che belli ragazzi che siete! Bravi, bravi complimenti! Adesso due belle pufe! Fabiola e Sara!